Due importanti notizie per i cani e relativi ai proprietari cittadini di Arco. La prima è l'ordinanza comunale firmata dal sindaco Betta questa mattina, frutto di un confronto con le altre amministrazioni locali, per giungere in un futuro ad un unico regolamento di pulizia urbana. Ma la principale novità dell'ordinanza è l'obbligo, da oggi in avanti, per tutti i proprietari di cani di portare con sé l'occorrente per pulire i bisognini del proprio animale. Ai trasgressori sarà inflitta una multa dai 25 ai 120 euro. L'obiettivo della giunta arcense è combattere in maniera decisa e maleducati che lasciano in giro maleodoranti tracce del passaggio del loro quattro zampe, secondo il sindaco Betta un comportamento irresponsabile che alla lunga deteriora la tolleranza della cittadinanza verso i cani di per loro innocenti. La seconda notizia è l'apertura ufficiale, con tanto di taglio del nastro, della Sarca Bau Beach, l'area riservata ai cani sulla spona destra del Sarca, accessibile dalla ciclabile presso il centro sportivo di Via Pomerio. Nonostante fosse già aperta da un po', ora è stata completata con cestini per rifiuti, distributori di sacchetti e cartelli trilingui. Sentiamo un'intervista all'assessore Agirelli. Cosa cambia per i cittadini di Arco e Cannon Cane adesso tra la nuova spiaggia e l'ordinanza? Allora, l'importante oggi è questa, l'area della Sarca Bau Beach è un'area importantissima sia per i cittadini ma anche per i turisti, insomma ampliamo la nostra recettività diciamo. Abbiamo la possibilità di un'ampia area verde con accesso al fiume, una fruizione importante aperta tutti i giorni a qualunque ora della giornata ma anche della notte per poter passeggiare e far passeggiare i cani anche col fresco della sera. È uno spazio che prima non c'era, uno spazio in più che abbiamo a disposizione di tutti gli amici a due zampe e a quattro zampe. Quindi è un'area importantissima che oggi apriamo, è già attivata da settembre dell'anno scorso ormai però oggi ufficialmente con anche la segnaletica giusta che definisce bene l'area anche in tedesco e in inglese abbiamo un'area importantissima per i nostri amici animali. Per quanto riguarda l'ordinanza, grazie, lì appunto un aspetto importante è questo kit di pulizia o comunque anche semplicemente i sacchetti che devono essere sempre presenti per quanto riguarda il proprietario per poter raccogliere le dedizioni canine perché la polizia urbana non può sanzionare soltanto adesso nel momento di non raccolta delle dedizioni canine ma anche nel momento in cui la polizia chiede al proprietario di poter mostrare i sacchetti o chiamiamoli i chitti di pulizia, se questo non è presente scatta una sanzione. Quindi insomma speriamo anche con questo di poter un attimo arginare questo grave problema delle dedizioni canine lasciate in qualunque spazio anche vicino ai parchi giochi, anche vicino alle scuole è un tema veramente molto sentito ultimamente anche sui social network, sui nuovi parchi insomma un'attenzione che speriamo un pochino di arginare però l'aspetto più importante che vogliamo far passare anche oggi è educazione, senso civico e rispetto di tutte le creature sia umane che animali. Poi immagino se è stata una bella soddisfazione riuscire a dare ad arco una spiaggia per cani nonostante quella potrebbe sembrare la mancanza di materia prima, cioè una spiaggia come ce l'hanno Riva e Torbole. È vero, insomma dai parlare di Sarkabao Beach sul fiume, è un'area importante, un po' diversa dal solito però insomma un'area veramente che è sfruttata e verrà sfruttata tantissimo e il fatto di posizionarla qui c'è stato insomma anche fatto una consulenza diciamo un profondo approfondimento sia con i pescatori perché comunque andiamo un attimo ad affiancarci a loro che sono delle persone che vivono il fiume però questo è stato fatto veramente un dialogo, un percorso partecipativo anche con le reti delle riserve che ringrazio perché proprio anche grazie al loro contributo sia di risorse personali, di energie ma anche economico siamo riusciti oggi ad inaugurare questa importante area.